Julia vuole fare l'infermiera. Ma è un lavoro d'oro per una signorina come te. La regina vuole vederla quanto prima. Voi e le dame infermiere. La città è allo strevo. Siamo pronte a fare il nostro dovere. Giovedì partirà una nave. Giovedì? Questo giovedì? Dicono che a Melilla si spari ancora per le strade. Deve essere un inferno. Per me si fa solo presto. Non chiedo molto. Vengo anch'io in Africa insieme a voi. Non se ne parla. Non intendo scendere dal treno. Avete rinunciato alle vostre famiglie, ai vostri affetti. e avete lasciato le vostre case per venire qui. Ricordate, l'unica cosa che vedranno sui nostri visi sarà il suo liso. State calmo! Pietro, vado! Ma da dove viene? Da un luogo dove non sta bene avvicinarsi tanto a una donna. Sono momenti molto difficili per il nostro paese. Siamo in guerra. E dobbiamo essere sempre pronti al peggio. Lei è un bravo uomo. La sua futura sposa è fortunata. Dobbiamo essere sempre pronti al peggio. Oh ma non è un'altra donna. No! Grazie a tutti